alla fine è arrivata anche la seconda medaglia di bronzo per la nuotatrice pavese Monica Boggioni in gara alle Paralimpiadi di Tokyo la 24enne dopo il terzo posto nei 200 stili libero S5 ha fatto il bis anche nella stessa specialità sui 100 con un tempo di 1'22'43 una grande soddisfazione per Monica che nonostante le tante difficoltà nella preparazione a causa dell'emergenza Covid sta regalando grandi emozioni assieme a tutta la squadra del nuoto sono 11 al momento le medaglie conquistate dagli azzurri a Tokyo 4 ori, 4 argenti e 3 bronzi tra gli altri medagliati c'è Francesco Bocciardo che ha vinto l'oro sia nei 100 che nei 200 stili libero categorie S5 Stefano Raimondi che ha vinto la finale dei 100 rana categorie SB9 e Carlotta Gilli che ha trionfato nei 100 metri farfalla categorie S13 l'obiettivo per la delegazione azzurra adesso è di superare le 39 medaglie vinte alle Paralimpiadi di Rio nel 2016